Realizzare un'attenzione particolare su quello che era l'arredamento nel mondo dell'arte. Quando c'è un dipinto come questo, l'annunciazione, non è soltanto l'attenzione da porre sull'angelo e sulla Vergine, no, è anche di vedere com'era, diciamo, e qui siamo a metà del Quattrocento, ma voglio dire nei vari secoli c'è stata un'interpretazione di quello che erano i modelli di arredamento del periodo. Qui li abbiamo realizzati in miniatura, ma tutto l'arredamento in ambito arte l'ho fatto realizzare in grandessa naturale al vero quando realizzavo Abitare il Tempo Verona. Quindi questi erano, diciamo, degli argomenti che destavano e consentivano anche agli artigiani e ai progettisti di esprimersi in ambientazioni che, voglio dire, avevano un sapore artistico importante.